Quindi la chiesa, questa qui era l'ingresso, stava lì l'altare maggiore. Era una chiesetta quindi piccolina, che finiva qua, perché tutto quell'altro era il salone delle assemblee comunali, del comune parlamento di Teatro. Quindi qui appena entrava in chiesa ci stanno. Questa l'ha fatta Michelangelo a questo signor Bracci, quindi questa è una struttura fatta molto linea, vedi, ma che è di Michelangelo, mentre quest'altra l'ha fatta al San Sovino. Il San Sovino. Ma qui di Bello c'ha, vedete quelle pitture, sono fatte su Ardesia, come al verano. E da qui che l'hanno copiata, ma come l'hanno fatto? E per fare i colori vanno cotti ogni volta che metti un colore. Ah, sì sì. Poi c'è un lavorone, ecco perché sono cari. Purtroppo la donna non si vede più, ha perso il colore, perciò che era moglie e marito di questa famiglia dei Vincentis. Era un pontefficio 16, 16. Un dio piccolare. Una dicurale ci rimasta soltanto a enthusiasts. Eh, sì. Ciao, ciao, ciao. Ciao.